Ciao, questo è un nuovo video che è il solito degli acquisti Manga che mi è arrivato la scatola da parte di Mangamania Firenze che ho visto che in questa scatola mi ha messo dentro il numero 90 della preview e anche l'ultimo numero 300 e 380 dell'anteprima che magari sull'anteprima farò un video dedicato nella copertina dietro dell'anteprima c'è Iron Man che magari vi faccio un video dedicato sull'anteprima con le nuove uscite dopo per adesso vi faccio vedere solamente i manga che sono riuscito a recuperare anche dentro la scatola di Mangamania ho solamente i manga e adesso solamente i manga che mi è arrivato l'ultimo numero di Border 66 che sto qua che con questo numero questa serie qua è finita che è della di NIT Manga che costa 12,90 euro a volume che di questa serie qua l'anno scorso l'anno scorso quando era iniziata e ho anche riuscito a recuperarmi anche magari anche la variant di questo qua che è uscita tramite la Feltrinelli che come serie questa qua è avventura che parla di magari di un terremoto che ho visto che è molto magari molto bella che anche magari come disegni ci poteva anche bella questa qua e niente andando avanti mi è arrivato il quinto numero di Sampei il pescatore il ragazzo pescatore della Star Comics che costa anche 12 euro a volume questo qua che guardando mi è che mi guardavo il cartone l'anime da piccolo questa serie di Sampei la volevo tipo andarmela a recuperare che ho visto che anche la parte magari dei disegni questa qua questa serie ci poteva magari anche anche stare anche se costa magari 12 euro a volume questa serie qua di Sampei ha pochi a pochi volumi e la volevo tipo anche fare sempre con la sua sopra coperta sopra poi andando andando avanti mi è arrivato il numero 8 di Alice in Borderland il numero 8 che adesso dovrebbe mancare solamente l'ultimo il 9 per completarlo completarlo tutto che costa 12 euro a volume questa serie qua della J Pop che oltre i nuovi numeri di questa serie qua c'è anche un volume extra il diecimo però visto che adesso che siamo così alla fine ho visto che magari nella costina stava uscendo anche così dice la scritta proprio anche sulle costine e sugli altri usciva proprio la scritta Alice in Borderland che è molto bella vederla anche magari in libreria che mi stava tipo che come serie questa qua è molto bella è molto bella di Alice in Borderland che adesso manca l'ultimo sempre qua sulla copertina sopra poi andando avanti ho recuperato anche il numero come si dice il numero 20 di Damage 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 come si dice si pronuncia questa serie qua che sbaglio si pronuncia di questa serie qua anche se Marella come se questa qua la volevo tipo anche un po' come si dice anche se Marella è una serie che Marella già da tempo la volevo tipo smettere di comprarla perché ho visto che non era Marella una serie Marella così che mi stava tipo piacendo come serie che provo a sto tipo continuando a fare questa serie qua che è una serie un genere fantasy questo qua che costa 5 euro e 90 della della G-pop che Marella sul fantasy provisco Marella una serie come Marella Overload che sto facendo anche quella anche quella che però Marella se qualcuno Marella può piacere le serie fantasy magari consiglio di andare su Marella su altre serie magari non su questa Marella su questa qua proprio adesso volevo vedere se Marella è continuato magari non cambierà l'idea però voglio vedere come continuava magari questa serie qua poi ho preso il come si dice il numero 12 di Aiema 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 che è già uscito già da un po' poi io su certe... magari se sono un attimino mai indietro però mi è arrivato adesso il numero 12 di Aiema 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 che è bella come sia questa qua che avevo già letto la prima... la prima edizione che eh... prima edizione e volevo andarmi a recuperare anche questa qua che deve cambiare... l'hanno rifatta cambiando il finale... il finale che la volevo tipo anche leggere... che costa 6 euro e 90 a volume questa serie qua della hip hop dopo... ho visto che non... sono riuscito a recuperare sempre la variant di Manga Yoast sempre di questa serie qua... ma quella vecchia... che Omra e la sua variant... non sono tipo riuscito a recuperarla... però mi sono rifatto con la variante di Manga Yoast di questa nuova... di questa nuova edizione... poi... mi è arrivato il numero... il numero 16 di Chemology GN... ho visto che non è... non è così tanto brutta questa serie qua... che la stavo tipo... la stavo tipo continuando... che Amare è una di quelle solite... trame... che è una di quelle... le tue... le tue... le tue... le tue... le tue... tipo a Canu Kun... eh... tipo quella... che Amare non ha... magari questa trama così... magari complicata... che ci devi magari ragionare su... però... la stavo tipo... questa qua... mi è... mi stava tipo piacendo come... come se la stavo tipo... eh... è una di quelle che volevo tipo... eh... portare... eh... portarla... alla... alla... alla conclusione... questa qua... eh... e niente che mi stava tipo... piacendo che costa 6,50... della J-Pop... sempre quella sua... sempre quella sua... magari sovracoperta... eh... poi... eh... mi è arrivato... anche se mi deve ancora arrivare quello... con... eh... con le... eh... con le... eh... con le card dentro... il... il numero 20 con le card dentro... che mi... mi... mi arriva sicuramente... eh... col... eh... col prossimo... 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 eh... col prossimo...اه... è... quello che... eh... sia... dioa... che... che per了... signor... ma bene... che... che... è... che... consiglio che è... che è molto bella questa qua... che... anche se costa... 7,7 Euro... ha... alla... ha... volume... è... una... 1... se... che... magari... eh... merita... che... ultimamente... mi mi... creator... eh... recuperato... le due... eh... c'è... là... variante da parte della panini che ha fatto per blu 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 lock che pure questa qua c'è la sua sopra sopra coperta sopra ho visto che magari come mai si è sicuramente una di quelle che magari che consiglio questa fa di blu blu lock che da planet che della planet ma anche una serie della planet manga e niente andando come mare ultimo manca che magari vi faccio vedere ma adesso che mi è arrivato l'ultimo numero che è uscito di di kingdom il numero 57 che lo è sicuramente che era uno dei primi che volevo tipo incominciare cominciare magari a a legge anche che della j-pop che anche se costa 6 euro e 90 del se io se io novanta a volume però visto che come come se kingdom è una di quelle è una che come mare come e magari una di quelle serie ma ecco come volu che consiglio sicuramente che molto molto bella kingdom che sulla guerra dei 500 anni e niente che magari stavo tipo anche incominciando a guardare a guardarmi anche la parte dell'anime di chido che volevo mai essere curioso magari anche di come ha fatto magari una parte dell'anime che ho visto che leggendo la che nella lettura mi ha molto piaciuta e adesso voglio vedere la parte dell'anime che anche magari come i disegni ho visto che merita merita anche nella parte dei disegni tranne magari quelle parti dove ci sono i cavalli quelle battaglie che disegnano sempre sti cavalli magari un po sti è un po ma è un po tipo stilizzati un po che non si capisce quel più di tanto quel più tanto poi certe il 99 per cento dei tavoli di disegni è molto bella che magari questa questa tavola anche se c'è una vignetta poi in alto adesso che la coppa che su youtube ma non si può mai far vedere ho visto che magari molte tavole sono molto molto belle certe tavole a parte ma è tipo quello che stavo dicendo prima che ma è la parte dove ci sono che lo vista adesso che la parte dove ci sono ma è dove ci sono i cavalli ma è fanno ma è non si capisce ma è col più di tanto po 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 che quella tavola con i cavalli ma non è nato dopo ma molti così dice ma nella parte ma lei delle molti tavole ho visto che è molto belle niente magari niente mi posso fermato un attimo qua sul clinton che una serie che ho visto che che mi piace e niente che dopo quest'ultimo che magari che non se lo sto prendendo solamente solamente per vedere magari di i disegni che ci sono dentro mi sto recuperando anche la parte che stavo facendo adesso di di demo slide e quelli quelli briti tipo da colorare questo qua il demo slide il libro da colorare questo qua è la parte arancione che ho visto che che lo sto comprando anche anche se magari costa anche un po che un volume così solo piccolo sottile costa 7 euro 90 pollo l'ho voluto li sto prendendo perché solamente per i disegni che si magari che si trova che si trovano dentro che ho visto che certi morai sono certi disegni sono belli anche se mai la parte del manga l'hanno criticata mai un bel po di gente sia sia una parte dei disegni pro di mosela e demo slide e sul sul sull'anime non c'è magari niente da dire che con demo slide a parte che in giappone hanno sbancato questo questa serie qua di demo slide che ha battuto ogni record di vendite poi con demo slide hanno fatto tipo il contrario di 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 promi di promisse neverland e che che promisse neverland e mille volte mai meglio magari il manga che la serie e dell'anime che compromisse neverland e comunque la seconda stagione della dell'anime hanno rovinato un po' non po' hanno rovinato la parte dell'anime di quella serie lì o che magari ogni ogni sei magari sicuramente ma lei la 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 si può ma i difetti che magari è difficile mai trovare quella che poi e che non trovi mai di i difetti per adesso come se ma manga che vi volevo far vedere erano solamente questi qualche del pacco che mi è arrivato da manca mania che sicuramente a seconda parte della scatola che mi è arrivata adesso di manca mania se non facevo il video troppo lungo che magari lo farò mai riusciremo più avanti con foto ma è questo che ancora qua ancora la sua scatola da parte di manca mania che magari adesso vi volevo far vedere solamente questi qua collante che abbiamo visto che mi ha messo dentro l'anteprima e la preview per adesso vi volevo far vedere solamente questi di di manga che ho visto visto che siamo già arrivati magari ai 20 20 minuti di video che queste qua sono le scatole che fa sempre manca mania firenze che anche una bella che una bella scatola questa quella bella cosa però è riuscito a farmi arrivare in un giorno fare fabio di manca mania e niente magari voglio chiudere qua questa prima parte di questa di questo pacco che mi è arrivato da parte di manca mania e sicuramente mai ci vediamo magari più avanti più avanti con i miei soliti video ma è da parte con i soliti video magari se con quelli da edicola da sergio bonelli con dylan doggo al massimo con siamo esterne ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video sul mio e sul mio canale e niente per adesso vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao